Il plurale. Il plurale dei nomi in genere si ottiene aggiungendo una S al singolare. Copen fa copen aggiungendo una S ma nella pronuncia non si sente. Copin fa copin, anche qui si aggiunge la S ma la pronuncia è identica. Ami fa ami. Le parole che ho scritto significano rispettivamente compagno, compagna e amico. I nomi che terminano in S, X e Z al plurale non cambiano. Quindi le moi, il mese, che termina per S, al plurale fa sempre moi. Si capisce se parliamo di un mese o di più mesi dall'articolo che lo precede. Le moi un mese, le moi con la S, con la S nell'articolo, sono i mesi. I un wa, una voce, al plurale termina per X, quindi non cambia e al plurale fa sempre wa. Anche in questo caso è l'articolo che lo precede che ci fa capire se parliamo di una voce o di alcune voci, delle voci. Le ne, il naso, termina per Z, al plurale identico. I nomi che terminano in AL, al plurale fanno AUX, pronunciato O. I nomi che terminano in EU e AU, pronunciati E e O, ripeto E e O, al plurale aggiungono una X, che però non si sente nella pronuncia. Fe, fuoco, termina per EU, al plurale aggiungono la X. Fe, pronuncia identica. Cadò, regalo, termina per AU, al plurale aggiungono la X. Cadò, stesso discorso per bureau, ufficio o studio, che al plurale fa bureau con la X. Quindi, ripiloghiamo. Come si forma il plurale? Il plurale, in genere, si ottiene aggiungendo una S al singolare. Ci sono alcune parole che al plurale non cambiano. Ci sono alcune parole che, anziché aggiungere una S, aggiungono una X. Ci sono alcuni plurali irregolari e che vanno studiati a memoria. Ci sono alcuni plurali irregolari e che vanno studiati a memoria.